Sto offendendo, i diretti pure non hai la mano, tu ti hai una capa tosse Non c'è mai rientro E' cazzimoso Adesso, ma quando non c'è mai parte? Ah, sfamaron Grazie Copp, unisciti alla partita Vabbò, allora questi 25 secondi e lieve 5, 4, 3, 2, 1 Buonasera a tutti quanti Salve a tutti gente, oggi stiamo su La foresta The forest E ora cerchiamo di trovare un server Secondo me non sta registrando Comunque 4 su 5? Volete questo? Ok, andiamo Non sta registrando Perchè Alessio deve dare il look E' già No, ha visto già E' perchè non me lo fa fare io Ah, capite? Non ce lo faccio fare Ma che faccio il culo con te, no? No Adesso non è il look A parlare fuori per non capire il fastidio Ma viene il hint Viene andata con i div E' troppo il hint che fai 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 Ma roots E' mo? Ma che è andata? E' perchè sto paziente Dove c'è essa qua? Che c'è sta? Ma fa le tracate Tanto non si sa registrando niente Ah, le tue manche non potrà Si pare che mi fai 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 Ma come lo sa combatta? Ahhhh Ehi Come si accade? Come si accade? Ma perché ti usa questa cosa? Come si torna vera? Bestiale Ah, hai capito? Con tutti i tasti erano proprio gli sti Se la freccetta si accade gli sti Voglio che qui ti stiamo. Caprocetto là da che ci stiamo. Che cosa ci stiamo? Ah, che buono. Ah, qui ci stiamo. E solo là di sotto che ci stiamo. Brà, adesso come ci stiamo? Come ci stiamo? Che cosa?